A Bordocampo ci sono l'azionista di riferimento Michele Condò, il vice maglietta ed il direttore sportivo Mannarelli. Comincia così l'allenamento della Tina alla vigilia della sfida con il Melfi, agli ordini di Stefano e Luca Sanderra. Prima parte dedicata all'atletica, alla rapidità con degli scatti ripetuti su due circuiti all'interno del Francioni. Poi lavoro sulla parte tattica e classica partitella a campo ridotto. Si gioca in maniera intensa, si cerca di far girare la palla velocemente con partita a tema 2-3 tocchi ed alla fine con il tocco libero. Calci di punizione e calci di rigore hanno chiuso l'allenamento per aggiustare la mira in vista della partita di domani. Il tecnico Sanderra ha quindi potuto raccogliere le ultime indicazioni sulla condizione del gruppo e dei singoli, in modo da scegliere l'11 titolare che domani alle 14.30 dovrà scendere in campo in casa del Melfi. Il tecnico Sanderra. 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 E' bem You can wind me up and watch me go where she sucks and nobody knows A good excuse to be a bad influence on you And you I'm a good excuse To be a bad influence on you And you And you To be a bad influence on you